Sono qui con una mia amica che di professione fa la teatrofila, giusto? Si, ti piace? Fa la teatrofila, ma scrive. Io nasco teatrofila perché appunto ho questa pagina Facebook che si chiama La Pialmente. La particolarità di Francesca Romanalino è che lei praticamente è come il prezzemolo, la troviamo dappertutto. Quanti spettacoli vedi in una settimana? 5 e 7, cioè tutte le sere a teatro. Allora dimmi il tuo spettacolo del cuore. Non si dice perché spero sempre che è quello che devo ancora vedere. Ah ecco, ma quello che ti ha fatto innamorare? Con questi amati orrori, ho visto che sono meravigliosa, ma si vieno speziale. Ah, diciamo che sei spesso abbinata a un nome importante che è Oliviero Ponte di Pino, o no? Ma, ma, io sono un cane sciolto. E' un po' che Francesca fa sulla sua pagina delle critiche molto interessanti che io vi consiglio. voglio dire, la critica è sempre la critica, no? Quindi a volte... Non è sempre accomodante. Però, io vi invito a seguirla sulla sua pagina, ripetiamo qual è? Platialmente la pagina, diciamo, Facebook, però, dove comunque mi piace condividere qualsiasi tipo di evento. Proprio come uno dei maestri gli diceva, sai che forse condividi troppo? E poi dico, beh, ma platialmente di cosa stiamo parlando? Ecco, siccome anche la nostra web TV MTM vuole condividere non solo quello che riguarda MTM, ma un po' tutto, abbiamo qui la prova. Grazie. Buon lavoro, grazie. Grazie per la visione!